Il Natale puoi fare quello che non puoi fare mai Riprendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere quel tempo Il Natale alle porte, l'Avis di Castrovillari ha deciso di festeggiarlo insieme a tutti i donatori e all'intera cittadinanza Sull'isola pedonale di via Roma, Babbo Natale, Avis ha distribuito palloncine e regali a tutti i bambini Mentre i volontari, oltre a dare notizie utili su come diventare donatori, Avis hanno regalato alle signore delle palline di Natale con su scritto Avis Auguri il Buon Natale da parte dell'Avis, l'Associazione dei Volontari Italiani del Sangue L'occasione dell'augurio è anche un invito a tutti quanti quelli che sono in età adulta e sono in buona salute Di venire al centro trasfusionale, all'Avis che accanto al centro trasfusionale a donare il sangue Perché ce n'è bisogno e chi è sano e sta bene può fare tanto donando il sangue Auguroni, grazie L'Avis di Castrovilla riconta oggi 1300 donatori, ma invita ad essere sempre più numerosi, tutti dovrebbero il loro motto Donate il sangue, fa bene a noi e a tutti Vado un regalo utile, una donazione E a Natale si può fare il blu, per noi, a Natale puoi